ciao a tutti popolo del tubo e benvenuti in questo nuovo giochino un giochino ancora in early access forest ranger simulator insomma andiamo un pochino a simulare la vita di un ranger che bello chissà se c'è anche ehi bubu ehi bubu bubu yogi chi lo sa non lo so io ringrazio gli sviluppatori che mi hanno concesso questa key il giochino è anche abbastanza piccolo e mi pare sono 6 o 7 giga quindi immagino che non sia ancora super completo immagino che non sia lunghissimo però insomma andremo a vederlo insieme prima però lasciate un bel like commentate iscrivetevi vi ricordo in descrizione il mio secondo canale dove porto ogni tipo di videogioco qua porto quelli simulativi ma di là porto di tutto quindi vi aspetto anche di là poi vi ricordo anche il mio canale viola dove sono i live tutte le mattine tutte le sere e se volete potete venirmi ad aiutare a supportare con un abbonamento prime gratis se avete il prime gratis e poi il link a filiazione giants per acquistare tutto quello che riguarda farming e aiutarmi a sostenermi nella mia partnership ma detto questo però prima di cominciare il leghino l'avete lasciato il leghino ragazzi è importante allora andiamo esplorazione libera o percorso di missione vabbè dai facciamo percorso di missione che noi andiamo a fare l'esplorazione libera non sappiamo manco quello che dovemo fa c'è posta per te e paparapà 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 allora sei appena diventato il vincitore del prestigioso concorso di conoscenza della natura che bello che bello vabbè dai ci dobbiamo prendere cura della foresta abbiamo capito dai abbiamo capito poi allora innanzitutto tocca fare raccolta differenziata è possibile separare i rifiuti già durante la raccolta basta raccogliere lo stesso tipo di rifiuti in un unico sacchetto premendo il tasto q si vedrà la categoria dei rifiuti nella foresta si possono trovare sacchetti bonus già separati perfetto sul lato sinistro della casa c'è un posto dove con ieri si consegnerà la merce ordinata dal negozio web ok e a destra della casa un luogo per mettere in vendita le cose ok non abbattere mai alberi sani nel parco c'è una multa possono essere abbattuti solo gli alberi vecchi appassiti a ok come su farming e da quelli segnati con la bomboletta con la x e poi per il trasporto degli oggetti più grandi necessario un'auto è possibile acquistarla presso un negozio online poi è possibile raccogliere tutti gli oggetti che si illuminano in giallo in un inventario pratico da tenere sempre a propria di mano questi oggetti possono essere utilizzati in caso di necessità tra questi l'estintone per spegnere gli incendi un martello un ascia un binocolo e molto altro potete portare con voi solo 12 oggetti o comunque più dei residenti voluno poi prendetevi cura degli uccelli che corini nutrite di regolarmente per aumentare la loro popolazione quando appariranno nuove specie aumenterete il profilo del parco costruite mangiatoie pontili sui laghi in modo da poter nutrire gli uccelli acquatici in tutta sicurezza bellini ricordate nutrite gli uccelli sono con cereali non date mai da mangiare del pane ah non sapevo che il pane era pericoloso per gli uccelli ma perché ma da quando ma in base a che regola come guardia parco dovete anche affrontare molti pericoli ah ragazzi le trappole per gli orsi il fuoco i vetri lotti i bracconieri che tendono pericolose trappole alla selvaggina mamma mia anche gli stessi animali possono essere pericolosi di notte a proposito c'è un'opzione che ci permette di decidere quanto dura il giorno e la notte io ho messo 20 minuti il giorno e 5 minuti la notte perché io odio la notte nei giochi costruite riparare avete a disposizione a disposizione un'officina speciale sul lato sinistro del rifugio della foresta possiamo anche costruire per abbellire il parco ok qui con f1 ci fanno vedere i controlli con tab così con m cosa ok allora ma che mi sta più a perculto ok perfetto allora prima pulizia il fine settimana appena trascorso e come di solito accade dopo la presenza di turisti nella foresta sono stati lasciati molti rifiuti non tutti sanno che non è opportuno è che il vostro primo no ma molti lo sanno ma non gliene frega una cippa è andate nella plastica e raccogliete 5 kg di rifiuti di plastica e metallo che dovranno essere messi nel contenitore giallo e imparate a conoscere la foresta di cui siete responsabili ok perfetto perfetto ragazzi bella grafica però è la grafica è bella o la grafica è bella allora sì però io devo raccogliere allora datemi un attimo io devo raccogliere plastica e metallo però sì ma tu c'è qualcosa che non mi guaglia allora sì ma ma scusate me ancora scusate me io ho capito ma una cosa mi importa devo raccogliere cioè io mi devo girare tutta la foresta a buttare uno per uno tutta tutta la roba oppure solo la roba grossa a ecco allora la roba piccola la metto nel sacchetto virtuale diciamo la roba grossa la roba grossa la metto la devo prendere a mano ok allora plastica bello così impariamo a fare la raccolta differenziata capito raga impariamo a fare i monnezzari e i monnezzari impariamo a fare i monnezzari i monnezzari vabbè ma scusate come la sfoto poi questa io quando vengo qua come faccio a svuotare la monnezza non la sfoto era ecco 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 svuoto così vedete ok ho capito ho capito ho capito ma andammo andammo nel boschetto va andammo vedete con la modalità q attivata noi vediamo un po è come l'occhio di falco de de assassin creed per capisce cioè si vedono i rifiuti in lontananza si ho capito ma i rifiuti qua non ci sono raga qua non c'è monnezza dai sono stati bravi sti sti turisti dai il tuo sommato dai dai ma che già faccio il fiatone ma che è il ranger de 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 ci sono pure i funghi raga se volete qualche fungo o vogliamo qualche fungo di me cogli i funghi va ce fa una bella zuppetta ce fa una bella zuppetta ragazzi è una bella zuppetta dei funghi questa questa stasera ce la famo pure un risotto scrivetemi nei commenti se preferite il risotto o la zuppetta ragazzi risotto zuppetta è come dolcetto scherzetto da capito risotto zuppetta bello bello mi piace mi gusta sì ma adesso no a parte la divagazione sui funghi a monnezza lo sta a zincia monnezza qua o c'è nessuno a parte che io me sono perso già comunque meno male che c'è la bussola lì che insomma dovevamo raccogli a monnezza siamo finiti di andare a raccogli i funghi vabbè ma che fai lasci qui no eh ci so li raccogli no non vedo monnezza io raga assolutamente non vedo monnezza dalle dalle mie parti 5 kg di plastica e metallo ma a meno che lui vuole che io pulisco solo qua dove c'è la casetta e quando c'è la casetta c'è un sacco di monnezza eh hopla hopla non mi fa saltà hopla papà mamma questo questo è proprio fratico sto allora fracico anzi fracico dentro allora eh questa che è carta cartone questa è tutta roba ma che ne so sì ma che ne so ma che ne so raccolgo tutto raga ma che me frega ma che me frega questa è carta cartone raccolgo tutto mischio tutto allora eeeh qui che è miscelato che vuol dire ah ah mi danno la multa se io sbaglio se io sbaglio boh ci sta a capire niente io ah siccome ho sbagliato ho buttato la carta ho capito ho capito allora prendo questo miscelato è indifferenziato visto mi sta a levare i sordi perché sbaglio vabbè allora datemi un attimo eh ma scusate questa boh lo sto a capire no ragazzi non è così perché sta roba non me la fa più assù non me la fa più assù sta roba non me la fa più assù nulla si è buggato si è buggato si è buggato iniziamo bene direi si è buggato allora ma tipo no allora competenze attrezzature compiti note statistiche ho trovato i funghi mappa dell'area mappa dell'area separazione dei rifiuti oh oh allora oh vedete ci fa vedere dove stanno i rifiuti oh ho capito va raga ho capito dove stanno i rifiuti si ma mo c'è il problema che si è buggato però non ci fa più raccogliere niente oh si è buggato non ci fa più raccogliere niente qua sulla mappa ci fa vedere stanno i rifiuti quindi se noi andiamo dritti davanti a noi dovremmo trovare i rifiuti credo eh basta con questi funghi devo trovare i rifiuti allora dovremmo dovremmo essere vicino alla zona di fiuti ci sta a capire niente io vediamo la mappa ma ma scusate ma io non mi muovo mai ma io non sono indicato nella mappa io non sono indicato nella mappa ragazzi no assurdo assurdo cioè c'è una mappa dove non indica non mi indica a me a me non mi indica che è cinghialetto oh ecchi rifiuti va meno male allora sì però ragazzi non mi fa più raccogliere niente mi sei buggato che amarezza oh allora allora ho ricaricato eh ho ricaricato e adesso si è sbloccato allora devo caricare solo la plastica il resto dei rifiuti non ce ne può fregare di meno può anche rimanere lì a noi ci interessa solo la plastica allora vediamo un po' dove sto adesso dove sto adesso ah eccolo che me lo indica allora si era buggato tutto ragazzi era proprio buggato tutto allora non ci sono altri rifiuti qua che ci interessano tocca andare a cercare solo la plastica allora quindi adesso dritti per dritti ci dovrebbe essere altra plastica è bello non è in giro a fare i monnezzari ragazzi monnezzari del bosco la prima puntata la intitoliamo i monnezzari del bosco andiamo un po' a vedere no no sto sbagliando qua devo andare qua che c'è la monnezza di qua comunque ragazzi la mappa è grossa è bella grossa se non se non guardate bene la mappa vi vi perderete spesso allora vediamo se sto sì qua ci dovrebbero essere altri rifiuti eccoli 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 quindi plastica e metal plastica e metal plastica e metal comincio a capire un po' le dinamiche comincio a capire un po' le dinamiche del gioco raga plastica e metal ma quindi metallo posso raccogliere pure sta roba qua giusto va insieme e sì plastica e metallo quindi verde e giallo posso raccogliere verde e giallo ok 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 quasi fatto eh quasi 5 kg di plastica ce l'ho quasi fatto se riuscissi a trovare qualche altra bottiglietta e cose varie bottiglietta e cose varie ecco la bottiglia siamo a 4 e 76 raga allora vediamo dove c'è altra monnezzetta e c'è ancora mi viene da sping e esc qua davanti qua davanti e dovremmo riuscire a finire la prima missione eccola 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 voglia se finimo sì che finimo sì che finimo raga finimola grande e oggi è raccolta e oggi è raccolta plastica poi domani passiamo a fare raccolta carta allora io mi auguro che questi cosetti che sto a prendere su piccoli a forma tonda non siano quello che io penso allora 6 kg di plastica ma io direi che abbiamo finito però dice 5 kg di plastica e metallo questi sono 6,06 kg vabbè ma quello è il peso massimo raga andiamo andiamo a casa andiamo a casa ritorniamo a casa va ritorniamo a casa abbiamo abbiamo preso tutto quindi direi che la prima missione è finita the first missions the first missions la prima missione the first missions che poi questo è un rangers un po' flaccico perché non non si arrampica non sarta non fa niente tiè fatica subito andiamo a casa e posiamo la monnezzina c'abbiamo anche un alveale da quello che vedo non so dove sto andando ragazzi io ve lo dico proprio credo che sia giusta la strada credo che sia giusta così ragazzi datemi un attimo qua dovrebbe stare il mio camp base ma io non ce so passato per la palute prima sono quasi sicuro che mi sono perso sono quasi sicuro che non era da qua che dovevo passare questo è il cinghialetto no me lo ricordo il cinghialetto ehi carino sarta come un vitello posso passare da qua si o non gliela fai manca attraversare dieci centimetri d'acqua so so dieci centimetri d'acqua no no non passa no non passa qua giù c'è un ponte non passa perché se no si sporca le pappette se bagna se bagna le pappette lui vediamo un po' qua se c'è della plastica si che c'è della plastica oh involontariamente ragazzi abbiamo trovato altri rifiuti quindi già che ci siamo li li tiriamo via li tiriamo via ok ok ragazzi non è un gioco per chi cerca l'azione ve lo dico subito cioè se cercate l'azione non mi pare perlomeno per il momento non mi pare un gioco per chi cerca l'azione ma magari a chi piace il genere chi se vuole rilassare un pochino eccetera eccetera potrebbe essere divertente cioè divertente rilassante rilassante quel tipo di gioco rilassante che ok vabbè oh cazzo abbiamo preso la plastica adesso ce ne ritorniamo oh se gliela fa ma torna a casa mica è detto che gliela fa cioè secondo me ragazzi rimarremo qui a vagare i boschi no ce l'ho fatta arrivata all'altra parte del guado guarda il guado a guadare il fiume dai sono arrivato spero qui dice qui indica sempre ma e di come fatica oh glielo ho fatta va meno male meno male glielo ho fatta a tornare al ranch ok allora oh adesso dacci la monnezza dacci i secchi della monnezza che svuotamo tutto io ancora devo capire dove mi devo mettere sti funghi però è meglio non allora plastica e metallo oh guardate quanta roba guardate quanta roba e quanti soldi eh qualcosa ti è sbagliato raccolto però eh ma come plastica e metallo perché i metalli me leva i soldi me leva i soldi però non riesco a capire ti però muovemoci eh tre ore per che è a posto mezzo mezzo in polacco mezzo ci si capisce niente che è eh si va bene allora io non lo so quello che ha scritto ragazzi mezzo mezzo in polacco mezzo nutrire gli uccelli ah adesso dobbiamo nutrire gli uccelli eh ecco adesso dobbiamo nutrire gli uccelli quindi quindi che ha detto che dobbiamo far cospargere di granaglie la mangiatoia e dove sta la mangiatoia dove sta la mangiatoia dove sta le granaglie raga però veramente in sepoccia c'è diteci che dovemo fa allora dateci un obiettivo dove sta la mangiatoia degli uccelli ragazzi io non la vedo di fiori che è questa la mangiatoia degli uccelli allora aspettate togliamo gli alveali togliamo le trappole togliamo i rifiuti dalle mappe incendi ah vedete possiamo vedere oh alimentazione allora ok ah ok ce l'abbiamo proprio qua eccola eccola quindi andiamo proprio davanti la orca di quella me non la vedo dove sta ah c'è la bandierina blu dove dobbiamo andare ma che è no ma che è qua per dare da mangiare gli uccelli che è qua ma no ehm raga qua dice che siamo entrati all'interno no forse è più là no no è più là è più là vedete è più là più facciamo il zoom e più capiamo che è più dietro ah eccola questa è la casetta degli uccelli la possiamo anche spostare oh la mettiamo davanti a noi va davanti a noi oh davanti a noi allora sì vabbè proprio in mezza strada no in mezza strada qua ok e quindi come gli do da mangiare gli uccelli allora come gli do da mangiare gli uccelli forse forse devo andare a comprare forse c'è un computer per comprare la roba vediamo un po' se c'è un computer che è questo ah i semi ah eccoli 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 forse sicuramente si compreranno con col computer con qualcosa vediamo un po' ah eccoli 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 finish eccoli eccoli siamo stati bravi siamo stati bravi gli do un altro po' da mangiare l'uccello gli do un altro po' da mangiare l'uccello ah no basta basta una sola ok ok perfetto adesso l'apicoltura ah ok ok devo mettere devo mettere il piripino dove ci sono molte api dice porta l'alveare in una ratura piena di fiori ok allora quindi adesso andiamo a mettere le aree fiorite ammazza oh ammazza oh quanti chilometri tocca fa quindi tocca portare l'alveare ed è qua ok ragazzi facciamo così va salvo lo facciamo la prossima volta se vi piace se vi piace ragazzi se vi piace se volete vedere altri video mi raccomando lasciate un like insomma più like più visual più c'è possibilità che Robertino porti un altro video di questo gioco mi raccomando quindi fatemi sapere cosa ne pensate se volete vedere il proseguimento abbiamo dato da mangiare gli uccelli abbiamo fatto i monnezzari ma ci saranno tante altre cose da fare tra cui le api liberare gli animali dalle trappole gli incendi la legna insomma ci sarà della roba da fare e quindi vi do appuntamento ai prossimi video ragazzi ciao alla prossima ciao 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 Autore dei sorrisi